c'è classe e classe trito e ritrito teoria sì ma non senza la pratica imparerete a tenere il ritmo con il mondo intero ma se ciò che farete non sarà in armonia con la vostra musica potrete chiederci di abbassare un po su un volo per imparare o imparare al volo ciò che conta è che il vostro servizio non avrà rivali anche all'estero dove l'ospitalità suona spesso italiano sala cucina accoglienza turistica suona bene il complesso non trovi